Siamo all'interno di sere climatizzate dell'Alsia, l'Alsia è l'azienda lucana di sviluppo e innovazione in agricoltura, dove stiamo facendo le prove per quanto riguarda il discorso dei lombrichi, per quanto riguarda il percolato, il vermicompostia e l'humus liquido. Questi sono vasetti utilizzati per fare la sperimentazione, che hanno un numero di serie, un codice a barre, in modo che il computer, quando passano dal macchinario, riesce a leggere il prodotto che c'è dentro e tutto quello che è stato fatto su quella pianta, in quel vaso. Qui ci sono dei campioni. Qui dentro abbiamo messo i nostri lombrichi, poi c'è stato messo un po' di sfalci d'erba e anche in quest'altra vasca, dove viene raccolto il percolato, che poi in un caso viene rimontato, nell'altro invece verrà utilizzato anche per controllare la quantità di sostanza organica che contiene, la quantità di elementi nutritivi che contiene e quindi saranno fatte le opportune valutazioni. Come dico sempre, buon humus a tutti!